La scorsa settimana Apple ha presentato il suo MagSafe Battery Pack, una batteria molto semplice che si collega al nostro iPhone tramite tecnologia MagSafe e quindi questa tecnologia magnetica e che ci consente di ricaricarlo con una ricarica wireless. Oggi lo andiamo un po' a vedere, cerchiamo di capire com'è fatto, come funziona, ma soprattutto lo andiamo anche a confrontare con il powerbank di Anker che abbiamo già portato qua sul canale e che offre una funzionalità molto simile, ovviamente lui non è un originale Apple, non è certificato con tecnologia MagSafe ma si può banalmente anche lui collegare all'iPhone tramite dei magneti e ricaricare il nostro dispositivo. Vediamo un po' come sono fatti questi due device e soprattutto cerchiamo anche di capire se valga la pena spendere 109 euro su un prodotto del genere come quello originale Apple oppure andare a risparmiare decisamente tanto rispetto a quello Apple e acquistare una batteria di terze parti. Come andremo a vedere alla fine si tratta di due prodotti differenti, fanno più o meno la stessa cosa ma diciamo che come vi ho spiegato nel video precedente, quello originale Apple ha un approccio un po' più ottimizzato alla questione della ricarica. Comunque adesso vediamo cosa c'è in confezione, direi che c'è davvero poco, c'è la batteria come sappiamo che è piuttosto leggera e poi c'è un po' di manualistica ma non sono dei manuali relativi al funzionamento del prodotto ma qualcosa di dedicato alla garanzia, un po' di avvertenze al funzionamento perché qua ovviamente abbiamo una batteria e quindi c'è un po' di avvertenze in merito. Una cosa che non mi immaginavo e che guardando le immagini originali del sito pensavo fosse differente è la costruzione perché questo MagSafe battery pack è costruito con una plastica dura, una plastica rigida. Pensavo che l'avessero realizzato con un materiale più simile al silicone utilizzato nelle custodie Apple quindi un materiale un po' più morbido al tatto e che offre un grip differente rispetto a questa plastica rigida. Questo è un po' più liscio e probabilmente offre anche meno grip rispetto al silicone della custodia. Sul retro invece abbiamo un materiale molto più morbido e soffice al tatto, sicuramente questo è stato utilizzato proprio per non danneggiare l'iPhone quando lo colleghiamo al nostro dispositivo. Comunque ora vediamo come si comporta proprio collegandolo all'iPhone 12, questo è un iPhone 12 base. A primo impatto, le prime impressioni devo dire che sono piuttosto positive. Io durante questi scorsi mesi, come vi dicevo, ho utilizzato il power bank di Anker che ha delle dimensioni molto più ingombranti rispetto a quello Apple, è decisamente più spesso. E adesso utilizzando questo MagSafe battery pack devo dire che è molto più comodo. Molto più comodo specialmente perché è più sottile e soprattutto mi sembra che i magneti siano leggermente più forti, almeno quello centrale, e difficilmente si riuscirà a staccarlo. Comunque oltre all'estetica, il design e la costruzione di questa batteria c'è davvero ben poco da dire perché non ci sono tasti, non c'è nessuna funzione particolare da attivare in scenari ben precisi ma le cose che dobbiamo ovviamente capire è quanto questa batteria riesca a ricaricare il nostro iPhone. Allora, per capire la reale dimensione della batteria, del MagSafe battery pack dobbiamo vedere un po' le specifiche perché c'è stata un po' di confusione online in quanto internamente ci sono due batterie da 1460 mAh che quindi per un totale di circa 2.900 che sono all'incirca la quantità di batteria che abbiamo all'interno di un iPhone 12 base o di un 12 Pro. Se consideriamo, come vi dicevo nel video precedente, una efficienza di ricarica del 70% allora questo MagSafe battery pack sarà in grado di ricaricare il nostro iPhone 12 per circa un 70-75% ovviamente partendo dallo 0. Se invece lo confrontiamo con la dimensione di un iPhone 12 mini allora lì molto probabilmente riusciremo a ricaricarlo dallo 0 a quasi al 100% e ovviamente su un iPhone 12 Pro Max che già di sua ha una batteria piuttosto grande sicuramente non riusciremo a caricare il 100% ma neanche il 70% in quanto è una batteria decisamente più piccola rispetto a quella che abbiamo sul 12 Pro Max. Comunque è un accessorio che serve non tanto per ricaricare l'iPhone nel momento di necessità ma è più che altro un qualcosa da tenere sempre collegato all'iPhone 12 per allungare l'autonomia anche perché quando Apple realizza questi prodotti non va semplicemente a realizzare una batteria che spinge in maniera incontrollata la corrente all'interno del nostro iPhone ma è un qualcosa di pensato per, come vi dicevo, aumentare. Il tutto è ottimizzato. Semplicemente l'iPhone ricevendo questa corrente non va in modalità ricarica e non va a spingere tutti i processi in background come se fosse collegato alla corrente ma sapendo che si tratta di una batteria esterna lui va a ottimizzare tutti i processi e si comporta come se fosse praticamente scollegato dalla rete di ricarica anche se comunque sta caricando la batteria. Una cosa che ci ha consentito di scoprire questo MakeSafe Battery Pack sull'iPhone 12 è il fatto che l'iPhone, questo di ultima generazione, sia in grado di utilizzare la coil presente sul retro per effettuare una ricarica wireless inversa. Difatti nella documentazione presente sul sito c'è scritto proprio esplicitamente come l'iPhone 12 quando collegato al MakeSafe e utilizziamo un cavo per ricaricare l'iPhone questo sarà in grado di caricare tramite una ricarica wireless inversa anche il MakeSafe posto sulla parte superiore. Apple ci dà questo come una cosa utile in quegli scenari quando dobbiamo utilizzare ad esempio CarPlay quando siamo sull'auto e dobbiamo andare a ricaricare il nostro iPhone utilizzare CarPlay che funziona ovviamente tramite questa porta Lightning che abbiamo sul basso ma possiamo ricaricare anche il nostro MakeSafe durante il viaggio. Ma alla fine dei conti ha senso acquistare il MakeSafe Battery Pack originale Apple oppure è più conveniente rivolgersi verso quello Anker che è decisamente più economico. Allora come vi dicevo a inizio video sono due prodotti decisamente diversi perché lui ovviamente è più indicato a chi desidera non dico il prodotto perfetto ma il prodotto meglio integrato all'interno dell'ecosistema Apple perché ha dei magneti più forti, è molto più comodo quando lo attacchiamo al nostro iPhone in quanto è più sottile e poi soprattutto abbiamo anche la possibilità di vedere l'autonomia residua attraverso il sistema operativo di iOS in quanto c'è tutto un sistema di collegamento tra tutti i dispositivi quindi ovviamente lui è pensato per chi vuole un qualcosa da tenere sempre collegato all'iPhone e dimenticarsene e soprattutto avere tutto ben integrato proprio come Apple ci ha sempre abituato. Il powerbank di Anker è invece un dispositivo differente, non direi neanche che si tratta di un powerbank con funzionalità make safe in quanto lui non è neanche certificato ma ci sono semplicemente dei magneti che ci consentono di collegarlo al nostro iPhone e poi ricaricarlo tramite carica wireless. Lui lo vedo più come un qualcosa di pensato per tenerlo magari dentro uno zaino, in una tasca è collegarlo all'evenienza quando abbiamo una batteria un po' scarica sul nostro iPhone 12 e caricare il dispositivo senza alcun cavo. Quindi due prodotti diversi, lui è più caro, ci sono molte più funzionalità ma l'ultima cosa su cui mi vorrei concentrare è la porta di ricarica perché qui ovviamente essendo un dispositivo originale Apple per tutti gli accessori che fanno parte dell'ecosistema iPhone Apple ha deciso di utilizzare anche qui una porta Lightning. Non è una cosa che mi fa impazzire perché io non adoro questa tipologia di porta di fatti sull'Anker preferisco questa porta Type-C che è anche molto comoda in quanto tramite questo tastino laterale possiamo vedere l'autonomia residua di questa batteria quindi non vediamo banalmente quanta carica ha il nostro powerbank di Anker sul sistema operativo di iOS ma comunque tramite questi piccoli led possiamo vedere quanta autonomia abbiamo. Infine vediamo anche quanta carica riusciamo a spingere all'interno del nostro dispositivo perché entrambi i powerbank sia quello Apple che l'Anker riescono quando ci troviamo in esterna quando siamo fuori casa e non abbiamo nessun cavo a ricaricare l'iPhone 12 con una velocità di 5 watt quando però torniamo a casa e attacchiamo un cavo sul nostro powerbank di Apple utilizziamo un alimentatore rapido lui si trasformerà come una sorta di cavo MagSafe come quelli che sono stati presentati durante la presentazione dell'iPhone 12 e tramite questo potremo ricaricare il nostro iPhone con una velocità di 15 watt quindi decisamente più veloce rispetto a quello Anker che anche quando si trova collegato alla corrente riesce a ricaricare fino a un massimo di 5 watt in definitiva il MagSafe Battery Pack ve lo consiglio se volete un qualcosa di perfettamente integrato all'interno dell'ecosistema Apple dell'ecosistema iPhone se volete risparmiare qualcosina in più se volete avere un qualcosa che offre sì sempre una funzionalità magnetica per collegarlo al vostro iPhone però potete rinunciare a tutte le funzionalità che vi offre il MagSafe Battery Pack allora potete acquistare tranquillamente quello Anker anche perché lui viene venduto in colorazione nera e basta mentre lui è soltanto bianco quindi dipende anche un po' dalle vostre preferenze in termini di design, in termini di estetica comunque questo era tutto fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questi due dispositivi e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti